Ancora il filo della memoria, agli incontri con l'autore e con il vino di Lignano Pineta, litorale adriatico udinese. Dopo Luigi Maieron è toccato ad un altro friulano doc, tra l'altro direttore della rassegna Pordenone Legge, Gian Mario Villalta, che ha presentato il suo Bestia da Latte, dove torna agli anni 60 del XX secolo, quando il cosiddetto boom economico trasformò un paese logorato dalla guerra in una terra fiorente e ottimista, dove le situazioni cambiano e gli odori della tradizione diventano insopportabili, oppure il ciclo industriale comincia a considerare l'animale, il bestiame, elemento produttivo. Nessuna operazione nostalgica, piuttosto una riflessione sulla capacità dell'analisi del passato di riconciliarci con noi stessi e con i traumi che abbiamo vissuto, come il passaggio dall'età adolescenziale alla fase successiva, quella oltre l'innocenza, in cui tutto sembra diverso, magari sbagliato. Oggi, alla soglia dei 60 anni, la domanda riguarda l'opportunità di certe scelte. Quale piega avrebbe preso la nostra vita in una direzione diversa da quella di fatto assunta? Io credo che adesso patiamo anche generalmente una specie di omologazione della memoria. Il modo in cui abbiamo presente una realtà passata è quello ideologizzato del revival oppure dell'appiattimento su certi canoni ideologici, per cui legati dall'enogastronomia all'idea appunto di un passato così idillico o addirittura di fantomatici valori. Insomma, allora questo è un libro che parte dal presente, parla del passato per tornare al presente e per tener conto che la memoria è un esercizio più complesso e che deve andare in cerca, se gli interessano i valori, di valori che sono legati al vissuto delle persone e che quello possono portare dal passato, mentre tutto quello che invece, il tema del libro è una civiltà contadina che scompare, insomma tutto quello che riporta invece a quella realtà della civiltà contadina è scomparsa veramente, è un'altra realtà con la quale dobbiamo fare i conti a distanza e non confondere appunto con le sagre o le immagini così pubblicitarie del Murino Bianco. Naturalmente c'è stato anche spazio per un buon calice di vino friulano, nell'occasione la Malvasia Doc 2015 di un'azienda di Maniago di Butrio in provincia di Udine.